salve amici quest'oggi ho questa radio che è montata su una imbarcazione una radio marina dell'amico mauro in provincia di vicenza per cui mi scrive che non lo trasmette ovviamente è una radio con unità separate quindi questa è l'unità di controllo principale questa è la radio insomma e poi non me l'ha mandato ma non credo sia necessario c'è anche un accordatore che è rimasto sull'imbarcazione per cui l'amico mauro lamenta che non trasmette e quindi valuterò prima di aprire ogni problematica bene ho collegato tutta la radio ho appunto messo un carico fittizio con relativo watt mentre rosmetro quindi ho sintonizzato la frequenza 401 che sono già preimpostate queste queste frequenze appunto marine 4 0 1 4 3 5 7 4 0 6 5 difatti corrisponde e faccio qualche prova 1 2 3 1 2 3 o la 1 2 3 o la o la prova radio prova radio o la pochissimi watt o la o la o la prova radio prova radio o mentre poi andando sulle caratteristiche vediamo che questa tipologia di radio dovrebbe dare una potenza di uscita massima ovviamente in picco modulato ovviamente poi si in base pure la frequenza dove si opera di 125 watt che c'è il picco modulato cioè non parlando non sempre si ha però certamente questa potenza misurata è troppo 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 bassa quindi apriamo vediamo un po il da farsi radio aperta eccola qua ho esaminato scrupolosamente ogni componente la radio sembra essere in ottimo stato condensatori sembrano perfetti nessun rigonfiamento il tutto mi lascia pensare che ci sia qualche dispersione nelle giunzioni dei finali quindi dovrò togliere il modulo di potenza e tirare via i finali e capire se si hanno qualche deriva intervento un po impegnativo ho tolto il modulo dell'amplificatore finale e quindi lo stesso monta gli sd 1487 vediamo se li dissaldo li provo e vediamo se hanno delle derive delle dispersioni ho estratto i finali ho pulito per bene l'alloggio ho dato una misura però onestamente non mi hanno convinto perché mi danno un'impedenza un po troppo bassa quindi io credo che al 90 per cento dovrebbero essere loro solo che non si trovano questi finali quindi mi sono sentito con il cliente e forse lui ha un aggancio all'estero per cui poter reperire questi componenti dopo una lunga attesa sono arrivati i ricambi eccoli qua dunque l'attesa è stata un po lunga nel frattempo sono arrivati altri lavori da eseguire però mi attivo subito nel montaggio ecco qua pronti per la saldatura ovviamente subito dopo aver riposto nell'alloggio il tutto ho messo la pasta termica nuova come giusto che sia quindi assembliamo e risaldiamo ecco qua tutto assemblato saldato quindi rimontiamo il tutto con pazienza perché ci vuole davvero un bel po di impegno radio assemblata pronta per la chiusura e la prova radio terminata vorrei fare una raccomandazione all'amico Mauro in quanto diciamo prima di installare la radio appunto fare ulteriori controlli e se possibile anche con rosmetri o con strumentazione magari so che siamo lontani però non so se c'è qualche suo amico che riesce a fare dei test delle misure delle risonanze sulle antenne insomma oltre che onde stazionari va bene che c'è l'accordatore però non so se c'è qualche problematica per cui abbia scaturito la non funzionalità dell'apparecchio insomma io ho risolto adesso faccio la prova finale per cui prima di installare fare anche dei controlli sull'alimentazione le masse tutto quello che concerne all'impianto di antenna o delle filari che vengono installate su questa radio dunque radio in prova finale solito rosmetro con carico fittizio per cui sono sulla frequenza al 401 ola 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 punta intorno agli 80 watt e ci siamo ola 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 prova radio ola 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 essendo frequenze in ssb è ovvio che il picco arriva nella massima emissione vocale comunque funziona funziona bene proviamo questa frequenza ci siamo dai ci siamo funziona era nei finali vediamo giusto per provare questa 1 2 3 prova radio si si all'inizio vi ricordate che erogava un watt e mezzo 2 3 più o meno qualcosa del genere per cui radio sistemata tutto rimontato è una Icom Marina ICM801E per l'amico Mauro Rino Scorpione vi saluta